Arisa, la foto che lascia tutti a bocca aperta, nel suo profilo Instagram, la cantante Arisa, 35 anni, posta una foto con cui mostra la sua new entry, ha messo l'apparecchio e non ha timore a mostrarlo, l'ex giudice di X Factor è stata inoltre paparazzata mentre faceva shopping in via Monte Napoleone Milano, anziché nascondersi, la cantante sorriso mostrando i denti metallici al fotografo che l'ha immortalata.